Che ne pensi di Mary Rimmense? Mary Rimmense musicalmente non è male, ma il personaggio è un po' addiscutibile Yo, Mary Rimmense, vieni qua, così ti spacco e poi all'agri là Tu non sei nessuno e non sarai mai il numero uno C'è un esercista su tango, yeah, perché ho avuto un nome così, perché? Yeah, è femminino, ma adesso purtroppo ragazzi ho finito l'orismo Grazie a tutti